Oggi siamo con Rocco Cuccaro, atleta del Team Homer e l'attuale campione italiano. Rocco, cosa significa per te essere bravi, diventare bravi? Ma secondo me essere bravi e diventare bravi è quando uno riesce ad applicare durante una normale pescata più o meno tutti i tipi di pesca, sia l'aspetto, sia il pescare in tana, la caduta e riuscire a capire il momento giusto per applicare la giusta tecnica, diventare bravi e anche applicarsi tanto, tanta costanza, andare a mare spesso, se fai parte di un bel gruppo e riesci a rubare un po' da uno, un po' da un altro, diciamo come ho fatto io, ti aiuta tantissimo. Per chi inizia adesso sinceramente la vedo dura perché prendere un pesce oggi è molto diventato molto difficile, un pochino perché sono diminuite le prede e sono diventati anche molto smaliziati, però al giorno d'oggi fare una cattura la soddisfazione è maggiore di come era un po' di tempo fa, tipo una quindicina di anni fa quando ho iniziato io. Il modo delle gare mi ha aiutato tantissimo perché mi ha fatto fare tante esperienze, ho capito dove sbagliavo, vincere il campionato italiano l'anno scorso è stato un sogno, erano quindici anni che sognavo una cosa del genere, penso che tutti devono rimanere attaccati a un sogno e questo è veramente stata una cosa bellissima.